Diamo il benvenuto all'Associazione Calcio Sorbolo, presso il Conad di Sorbolo, fresco di apertura per una bellissima cerimonia che vede protagonisti i giovani atleti del Sorbolo Calcio per rimarcare un'amicizia, una collaborazione che c'è e ci sarà fra questo bellissimo punto vendita e la società sportiva del paese. Qui sono presenti diversi rappresentanti della società sportiva che hanno aderito a questo invito e li ringraziamo e ci facciamo tutti un applauso. Grazie mille ragazzi di essere venuti a questo appuntamento, ci tenevamo in modo particolare ad avervi qua perché la scuola Calcio Sorbolo per noi è un punto di inizio, avendo appena aperto l'attività, tutto quello che coinvolge l'attività sul paese è una nostra priorità, quindi oggi vi regaliamo un presentino che speriamo che vi faccia piacere e siamo convinti che sarete impegnati in un'attività calcistica importante. Conoscevi il Conard di Sorbolo? Lo conoscevo. Ti piace? Sì. Grande Ciro, anche tu dei 2011? Sì. Ruolo? Difensore. Tu conoscevi il Conard di Sorbolo? Sì. Ci sei venuto a far speso ogni tanto? Una volta. Una volta, cosa hai comprato? Un po' di tutto. Grazie ragazzi di tutto, grazie ai genitori per questa bellissima giornata, breve ma intensa, però avete ricevuto delle sacche veramente belle, grazie ai Conard e mi raccomando venite a fare la spesa qua perché il paese ha bisogno, hanno bisogno tutti e grazie di nuovo per essere venuti qua. Grazie.